Per me la professionalità è un valore sacro, io posso dire che sto bene, sono oggi qui come era quando sono arrivato il primo giorno, motivato, volendo fare lo meglio per la Roma fino all'ultimo giorno che sarò qui. De Mourinho è un grande allenatore, tutti noi lo sappiamo, penso che farà un grande lavoro qui perché è un grande allenatore. Ovviamente, devo essere sincero, non è facile vincere 4-0 Manchester, ma ho visto tante cose nel calcio, ho visto tante cose che non sono impossibili. E per me io credo in tutto. No, io onestamente, parlando onestamente, penso che è tempo di seguire cammini diversi, devo confessare questo, è normale. Mi aspetta una partita difficile, giocare contro Manchester è sempre difficile, loro hanno questo risultato che è confortabile per loro, ma noi vogliamo vincere, vogliamo luttare fino alla fine. Dobbiamo fare la rimonta e nel calcio niente è impossibile, però proviamo di fare tutto domani nel campo. No, no, giochiamo ogni partita per noi, per la maglia e faremo sempre così, non giochiamo per fare vedere il nuovo allenatore. Sentiamo questo sempre, dobbiamo giocare sempre con la fiducia e con la forza che abbiamo per sempre orare la maglia e dare orgoglio ai tifosi, sempre.